Se queste teste si fossero ancora trovate al loro posto all'interno di Notre Dame, dopo quanto accaduto ieri sera, sarebbero sopravvissute? La testa dell'angelo che era in facciata, sì, perché per fortuna la facciata non è stata aggredita dal fuoco. Le altre teste invece che provengono dal portale del transetto sarebbero state molto a rischio perché il fuoco si è proprio sviluppato in corrispondenza del tetto dietro la facciata, cioè dietro le due grandi torri della facciata, per cui quando il fuoco, dopo aver divorato la carpenteria del tetto, fosse sceso, le avrebbe raggiunte. Queste sono sculture molto importanti proprio dei vertici della scultura gotica europea perché il gotico è uno stile che nasce in Europa settentrionale, in particolare in Francia, proprio in questi cantieri delle grandi cattedrali di Reims, di Chartres e di Notre Dame. Il valore di queste sculture, che quindi, come ho detto, è un valore che supera i confini della Francia, è duplice. Da una parte in Italia non abbiamo nessun museo italiano, si conserva una scultura gotica proveniente da una cattedrale francese, per cui questo prestito è stato particolarmente significativo e ringraziamo il Museo di Cluny, dove, come ricordavo prima, sono stati poi depositati tutti i 330 frammenti ritrovati nel 1977. In questo momento siamo l'unico museo in Italia a poter presentare delle sculture di Notre Dame che sono state eccezionalmente messe a disposizione per sei mesi, quindi un periodo molto lungo. L'altro elemento importante è che chiaramente si possono vedere da vicino. Le sculture delle cattedrali di solito sono posizionate in alto, a qualche metro di altezza, per cui non sono così, si possono godere non allo stesso modo di quanto non sia possibile invece fare in un museo, dove sono illuminate in un modo sapiente e dove poi abbiamo accompagnato la presentazione con questo allestimento un po' insolito tra il teatrale e il filmico multimediale in cui le sculture prendono vita e raccontano loro tutte le vicissitudini.